I centri diurni a Gela in Sicilia saranno realmente aperti? Intanto la mia visita è qui per testimoniare la vicinanza a una famiglia che è stata una famiglia straordinaria perché aver conseguito il diploma per Samuele è stato un successo anche della famiglia. Noi come istituzioni dobbiamo stare al passo con famiglie come queste che decidono di andare avanti a volte anche contro le istituzioni e nonostante le istituzioni non si impegnano abbastanza. Per cui noi abbiamo voluto testimoniare con la telefonata di Matteo Renzi e con la mia presenza qui un impegno concreto sul tema della disabilità in genere ma sull'autismo in particolare e credo che Gela non può rimanere indietro rispetto ad altre comunità che su questo tipo di disabilità hanno fatto interventi importanti sia per la scuola che per il lavoro che per il dopo di noi. Quindi riuscire a realizzare un centro qui a Gela è un obiettivo che ci poniamo a strettissimo giro. Quando lei è saputa la notizia che Samuele aveva conseguito il diploma qual è stata la sua prima reazione positiva? Mi sono emozionato perché spero che un giorno anche mia figlia si possa diplomare da scuola per cui vedere che un ragazzo come Samuele ce l'ha fatto e vedere anche una famiglia straordinaria che l'ha accompagnato in questo percorso di istruzione vuol dire che tutti possono farcela e quindi riuscire a creare queste condizioni credo che sia un impegno importante. Dunque sottolineiamo l'impegno da parte del governo che c'è. Assolutamente sì, abbiamo fatto una legge sull'autismo in un paese in cui questa parola praticamente non si utilizzava, era quasi sconosciuta. Abbiamo fondato una fondazione che io presiedo a livello nazionale, la Fondazione Italiana Autismo che si occupa di autismo e che sta cominciando a finanziare i primi progetti in tema di ricerca e di assistenza. Spero che uno degli interventi che finanzieremo con la fondazione sarà proprio quello di Gela. Manderete anche l'impegno assunto con Samuele di fargli incontrare Giori Scotti? Assolutamente sì, che poi la cosa che interessa di più a Samuele è l'assoluto, per cui assolutamente manterremo l'impegno. Samuele c'è un impegno da parte del governo e c'è un impegno preciso preso con te, ti faranno incontrare Giori Scotti? Sì, a Roma. Sei contento? Sì, sono contento con Giori e la Roma, prepari valigia e tre giorni e da settembre. Ma sei diventato una star oramai, ti cercano tutti. Sì, sì, io cercavo, ero molto sempre così genio, molto felice e contento.